signore e signori buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con la pallamano rosso blu si stanno per sfidare sul parchè del palazzetto dello sport di fondi per la terza giornata nell'ambito della terza giornata di ritorno del regular season del campionato nazionale di serie a1 girone c i paroni di casa dell'hc banca popolare di fondi che in questo primo tempo attaccheranno verso la sinistra dei vostri schermi in maglia bianca e pantaloncini azzurri bianca naturalmente con i classici colori rosso blu sul petto e dall'altra parte la temibile squadra avversaria del team network albatro siracusa terza attualmente in classifica a tre lunghezze tre punti in più rispetto ai ragazzi di giacinto de santis che quindi questa sera sono chiamati a una particolare una prestazione particolarmente brillante per poter fronteggiare la squadra siciliana una vera e propria corazzata costruita in qualche modo per vincere con dei giocatori di tutto rispetto di grandissima esperienza anche internazionale come il caso del pivot italo-cileno marco oneto zunica che è andato a impreziosire il roster di mister peppe vinci in questa stagione così come ormai di consueto i giocatori si salutano all'inizio della partita nella prima azione soprattutto gli avversari diretti vediamo subito la difesa molto attenta molto alta sul lato destro dell'attacco fondano portata dal tecnico siciliano beppe vinci parte lo schema dei fondani intanto con una finta di filici che scarica su matà ma poi lo stesso filici che raccoglie apre per conte conte vede stretto il suo spazio lo spazio a sua disposizione per il tiro e c'è subito la difesa molto forte da parte del numero 27 rosso ai danni di matà i onas matà il giovane alto destino per il primo anno qui a fondi dettorre intanto schierato nel ruolo di centrale per matà cerca di fargli ritornare il pallone ci riesce poi c'è ancora una volta la spinta del numero 27 rosso ai danni di dettorre gli arbitri dell'incontro che sono i signori simone e monitillo decretano questo tiro di munizione in favore della formazione fondana braccio alzato rischio di incorrere in infrazione di gioco passivo per la formazione fondana e bravo matà nello scavalcamento va fino in fondo era stata buona la l'avventura personale tentativo personale di jonas matà ma è stato magnificato dal fallo e poi dettorre al tiro parata del portiere avversario cerca l'ultimo momento di intervenire zizzo in tapin ma non vi riesce e riparte quindi l'azione parte l'azione d'attacco della formazione siciliana la prima in questa partita dopo un minuto e mezzo quindi punteggio ancora fermo sullo 0-0 di partenza andiamo di far ordine un pochino e di raccontarvi come sono schierate in campo le formazioni partiamo proprio dalla formazione siciliana nel ruolo di terzino destro vedete il croato chezzo il ottimo cannoniere si sta rilando questo giocatore per il primo anno in sicilia esce dai semmetri avversari il pivot neto e per lui non c'è bisogno di presentazioni il tiro termina sul fondo probabilmente c'era un fallo ai danni del di rosso da parte della difesa fondana non sono dello stesso avviso i direttori di gara che lasciano proseguire pallone che giunge a conte ancora una volta troppo poco spazio per il numero 51 fondano quest'altra parte c'è spazio per zizzo che va al tiro è ottima la chiusura su di lui del portiere grande e così poi il fondi riesce a recuperare il pallone sulla rispinta dell'estremo difensore avversario e poi riproporre il tema offensivo con zizzo per filic ancora filic con dettore dialogano i terzini della formazione fondana poi riesce dai semmetri avversari il pivot dall'aio che serve a filic e questa volta non c'è scampo per il portiere italo argentino xavier grande che può solo raccogliere il pallone nella propria rete per la prima rete dell'incontro realizzata dopo due minuti e quaranta della partita da milos filic uno a zero quindi per l'hc banca polare di fondi nei confronti della team network albrato siracusa stiamo vedendo come è spierato vediamo intanto che gli arbitri dell'incontro sono costretti a interrompere il cronometro per andarsi a spiegare in qualche modo con la difesa fondana in particolare con dall'aio probabilmente hanno visto qualcosa che non andava nel rapporto corpo a corpo tra dall'aio e l'autentico peso massimo che è oneto zuniga pivot della formazione siciliana c'è mattia calvo intanto nel ruolo di centrale dall'altra parte ci prova ancora rosso ma è colto in sfondamento quindi pallone nuovamente consegnato all'attacco della formazione fondana sfuma la seconda fase per cui preferiscono andare alla manovra e l'ottima all'intervento di mata che vedete in azione personale riesce a trovare il pertugio giusto nel cuore della difesa avversaria è troppo presto forse per dirlo dopo tre minuti e quarantacinque secondi ma sicuramente possiamo dire che l'impatto sulla gara dei giocatori fondani l'approccio alla gara dei giocatori fondani della squadra di Jacinto De Santis è stata sicuramente delle migliori quattro minuti in questo primo tempo 2 a 0 il punteggio per l'HC Banca Polari di Fondi riprendendo il gioco gestisce il pallone la squadra siracusana mattia calvo andiamo ancora a far girare la palla con il numero 26 Nicola Chezzo mattia calvo ancora per Chezzo il sottomano il 2 a 1 del Siracusa il primo gol di Nicola Chezzo in questa serata porta la sua squadra sotto di un gol Matic per dall'aglio che perde la palla ci prova poi Luciano Zizzo fermato il gioco c'era stato un fallo in difesa riparte velocemente la squadra siracusana adesso con il numero 8 mattia calvo centrale per Chezzo prova a liberarsi dalla marca dura Chezzo e poi con il piede la mette fuori Maxi Soliani ma l'arbitro prima invece aveva ravvisato una punizione dei 9 metri a favore dell'arbatro siracusa che ha ripreso il gioco con Nicola Chezzo centrale per Mattia Calvo fa girare benissimo la palla la squadra allenata da Giuseppe Vinci ancora Calvo cerca un compagno libero lo trova si trattava del numero 27 Giovanni Rosso poi c'è un fallo fischiato dal direttore di gara fallo ai danni di Marco Neto Zuniga quando siamo giunti ormai quasi al sesto minuto di questo primo tempo 2 a 1 per il Fondi c'è un fallo dai 7 metri intanto fischiato a favore del Siracusa lo sta per battere Juan Cantore è la parata di Maxi Soliani si esalta il pubblico delle palazziette dello sport di Fondi la parata la grandissima parata di Maxi Soliani e riparte la formazione allenata da Jacinto De Santis Mata per Stefano De Torre Filic ancora per De Torre per Dallaglio trova Mata libero ancora per Filic si spostano bene i giocatori per Filic 3 a 1 3 a 1 del Fondi ha segnato il suo numero 5 Milos Filic il serbo il secondo gol in questa serata e poi Kezzo velocemente sul contropiede per il 3 a 2 per il Siracusa De Torre Conte approvate la rete la rete di Conte il 4 a 2 incredibile una partita di ping pong di ping pong un gol da una parte e dall'altra era iniziata su ritmi abbastanza bassi nel senso delle reti che erano effettivamente poche le difese che prevalevano sugli attacchi invece negli ultimi due minuti sono stati momenti molto veloci il gioco veloce altalenante da una parte e dall'altra le squadre sono ripartite velocemente hanno portato ad una serie di segnature consecutive buon per il Fondi che si è rimasto comunque tuttavia nella fine di questa giostra con due reti di vantaggio intanto parte lo schema dei Siracusani con Vinci che va come doppio pivot nel cuore della difesa fondana e poi però Kezzo che non riesce a servire la propria ala si tratta del giocatore numero 10 Bronzo che è schierato nel ruolo di ala destra il pallone non è stato preciso da parte del Corato verso il proprio compagno e così l'azione d'attacco della formazione siciliana è sfumata e si rimane sul 4-2 interno De Torre che gioca nel ruolo di centrale in questa prima fase della gara con Filic alla sua sinistra e Matà alla sua destra ancora dialogano i terzini fondani poi parte lo schema con Zizzo che va a tagliare e poi lo spazio per Filic che lo vede ci prova ma poi bravo Kezzo a chiuderlo seppur fallosamente si ripartirà quindi dai 9 metri ma buona apertura insomma buona trama offensiva della formazione fondana che ha portato a difesa Siracusana ad aprirsi ancora Filic per De Torre si alza De Torre il suo tiro però è parato dall'ottimo intervento del portiere Savie Grande dall'altra parte intanto riparte velocemente tenta di farlo la formazione siciliana porta al tiro il giocatore tenta di portare al tiro il giocatore numero 10 Bronzo ma c'è stato un contrasto con Zizzo per gli arbitri non era tiro di rigore dall'altra parte velocissima seconda fase della formazione fondana che porta alla rete il pivot Dallaio prima rete anche per Andrea Dallaio e tre sono ora le lunghezze di vantaggio dopo otto minuti e mezzo nella del primo tempo vediamo come reagirà ora la formazione di Beppe Vinci Calvo sempre per Rosso poi si scambiano di posto proprio questi ultimi due giocatori ed è Rosso che va a raccogliere da Keggio Keggio che poi tenta l'avventura personale ma Maxi Soliani non si fa sorprendere sul palo più vicino dal tentativo del Croato Filic dall'altra parte fa tutto da solo ma viene colto in infrazione di passi probabilmente dalla coppia arbitrale quindi vanifica vanificata questa azione del giocatore serbo per il primo anno a fondi dopo i due trascorsi a Gaeta quindi passi in frazione di passi di Filic punteggio che resta sul 5 a 2 sono passati 9 minuti e 20 in questa prima frazione di gioco è ancora la squadra siracusana e bianconeri di allenanti da Peppe Vinci ad orchestrare il gioco ci provano adesso c'è il fallo il fallo sui danni di Marco Neto Zuniga e c'è la prima munizione del match e danni di Andrea Dallaglio quando siamo quando siamo giunti al decimo minuto ormai 5 a 2 per i padroni di casa ci sarà il secondo tiro dai 7 metri a favore di Siracusani lo va a battere il capitano Marco Antonio Neto Zuniga lui che ha la prima esperienza in Italia ha vinto una Champions League con il Barcellona è una Challenge Cup con lo Sporting Lisbona si appresta la battuta il cileno numero 26 del Siracusa contro Sogliani che prima ha parato il rigore è il gol il gol di Oneto Zuniga al decimo minuto 5 a 3 sempre per il Fondi si porta sotto di 2 la squadra di Peppe Vinci adesso la squadra di Jacinto De Santis invece ad orchestrare il gioco Zizzo per Matà poi per Capitan Stefano De Torre si cambiano di posizione Matà e De Torre Filic per Matà ancora per Filic per De Torre Zizzo taglia Zizzo verso lo ruolo centrale poi per Conte Matà lo chiamano al tiro lui non ci pensa poi stoppato il tiro di Stefano De Torre palla che termina in rimessa laterale un buon Fondi che ragiona molto in fase di attacco si scambiano molto di posizione i giocatori di Santi si libera il tiro benissimo De Torre per il 6 a 3 bellissima azione di De Torre e il Fondi si porta sul 6 a 3 è iniziato benissimo la squadra di Jacinto De Santis questa sera Luigi cosa ne pensi? si indubbiamente mi sembra molto attenta in fase difensiva tranne in questo caso che però ci è andata bene con il palo colpito da Chezzo ha visto uno spazio forse non era ancora pronta ben schierata la fase difensiva della formazione fondana però ottima attenzione difensiva e anche buone scelte in attacco abbiamo visto nell'ultimo caso Stefano Dettore come si sia reso ben conto dello spazio che si era creato proprio nel centro ha fatto un cambio di direzione veloce anche per le sue lunghe leve è andato a realizzare una bella rete adesso c'è bisogno probabilmente di cambiare il pallone l'autentica bomba di Chezzo probabilmente finita sul palo prima ha fatto danni irreversibili al pallone con cui si era iniziato a giocare e così gli arbitri decidono di cambiare il pallone su segnalazione di Maxi Soliani si può ripartire il punteggio è di 6 a 3 per i fondani sono passati 11 minuti 17 secondi in questa prima frazione di gioco esatto volevo un attimo ritornare su quella sottolineatura che avevi fatto tu Luigi su quello bellissimo smarcamento da parte del capitano Stefano Dettore lui che nella partita precedente contro il Gaeta è stato il goleador per quanto riguarda l'HC Fondi ha siglato tantissimi gol questa sera sta dimostrando di valere tutto il suo spessore tecnico e tattico una buona prestazione fino adesso da parte del capitano del Fondi indubbiamente un po' in questa stagione con la fascia di capitano si è anche responsabilizzato e quindi sa che nei momenti critici deve essere lui a tirare i suoi compagni proprio Stefano Dettore che scarica per Jonas Matà poi per Filic il serbo a cercare Zizzo ancora per Filic che prova la bomba che si stampa sul palo e poi bronzo poi dall'aglio aggressivo l'arbitro non fischia il fallo riprende il gioco normalmente ancora il Siracusa con il numero 8 poi per Kezzo fermato fermato buona difesa qui un fallo tattico ben speso da parte sì da parte di Matà ci sarà il classico fallo dei 9 metri la linea tratteggiata per il Siracusa che riparte centralmente con Mattia Calvo poi per Kezzo ancora Calvo poi per Rosso si è scambiato di posizione Rosso prova ad andare al tiro ci ripensa poi per Kezzo e la bomba sotto il crocio il 6-4 il punteggio si riporta sul 6-4 siamo già dall'altra parte però perché Matà 7-4 non c'è un attimo di rispire in questa partita Luigi bellissima gara fino a questo momento sono passati fino ad ora 13 minuti fondi vantaggio per 7-4 sul Siracusa bellissima gara di entrambe le formazioni certo momenti in cui le difese prevalgono nettamente sui attacchi avversari e poi ci sono invece momenti in cui il gioco si velocizza e grazie anche a delle ottime iniziative individuali si assistono a delle belle segnature ecco così come è avvenuto ultimamente nelle ultime due circostanze con Kezzo da una parte e Matà dall'altra pallone ora che giunge a bronzo che realizza una bella rete appena ha trovato uno spazio la destra siciliana dimostra le sue capacità tecniche e quindi c'è stata la rete del 7-5 che ha accorciato le distanze ha tentato di ripartire in rimessa veloce la formazione fondana ma gli arbitri dell'incontro che lo ricordo sono Simone Monitillo indubbiamente una delle migliori coppie arbitrali della pallamano italiana lo dico senza ombra di dubbio e senza paura di essere smentito e ne approfitto anche per ringraziare Vittorio che con me stasera per la prima volta sta iniziando a collaborare effettivamente con il nostro ufficio stampa nel commento a questa gara nella telecronaca di questa gara De Torri ancora intanto per Matà Matà che si incrocia con Filic ottimo il cambio di direzione del giocatore serbo e poi c'è il fallo commesso su di lui da numero 29 Oneto anzi a giudizio degli arbitri è stato Kezzo a commettere il fallo c'era sembrato Oneto sono d'altronde due giganti nel cuore della difesa siracusana e c'è stato il fallo addirittura probabilmente con difesa in area che ha portato che ha condotto i direttori di gara ad assegnare il tiro dei 7 metri al cui tentativo di trasformazione va proprio Capitano De Torre e il tiro viene parato ottimo l'intervento questa volta anche da parte di Savi è grande e quindi nulla di fatto per questo tiro dei 7 metri restano due le lunghezze di vantaggio per la formazione fondana mentre ora è Rosso che si sposta nel ruolo di centrale con Mattia Calvo che passa invece nel ruolo di terzino sinistro in panchina c'è l'italo-argentino cantore che è entrato prima per battere il primo rigore parato da Maxi Soliani a quanto pare non al meglio delle sue condizioni non ci lascia sorprendere neanche stavolta Maxi Soliani dal tentativo molto forte ma certamente non altrettanto angolato di quelli precedenti mentre dall'altra parte Jonas Mata si trova bene con i suoi passi e raccoglie l'ottimo servizio in velocità va a colpire ancora una volta sul palo più lontano un'azione tipica del giovane altoatesino questa in questa prima fase dell'incontro che vale l'ottava rete e il nuovo più tre in favore dei padroni di casa a te Vittorio un bellissimo gol quello di Jonas Mata però ritorniamo alla partita perché Rosso gestisce la palla il Siracusa Oneto per Kezzo che prova a smarcarsi dalla marcatura viene fermato e c'è il fallo dai nove metri a favore della squadra di Giuseppe Vinci ancora Rosso prova il tiro il palo la palla termina fuori bellissima azione bellissimo tiro tentato poi dall'altra parte Zizzo e Avier Grande si dimostra ancora una volta un grandissimo portiere bellissimo e precisissimo il lancio proprio col contagiri di Maxi Soliani bravissimo anche Luciano a raccogliere andare al tiro è altrettanto bravo va detto a Savier Grande che compie veramente un ottimo intervento ben tentando il gioco è entrato Francesco Rigante per quanto riguarda l'HC Fonti con il numero 24 è proprio lui che in posizione centrale orchestra adesso la manovra dei padroni di casa Matà Milic si scambia di posizione con Zizzo ancora per Rigante fa girare palla bene il fondi Matà dall'altra parte dove c'è Dall'aglio poi Matà ci prova Vier Grande il tiro di Matà non era dei migliori insomma Luigi era ha tirato non ha tirato ha tirato un po' forzato non come a cui siamo a Bielodi di solito e riparte dall'altra parte il Siracusa c'è il fallo però fischiato dal direttore di gara 17-15 sul cronometro 6-5 per il fondi 8-5 scusate per il fondi il Siracusa Mattia Calvo poi ha provato il numero 15 Gianluca Vinci la palla è terminata alta riparta adesso il fondi con Rigante poi per per Filic ancora Rigante scarica ancora per il serbo Filic con il numero 5 c'è Zizzo alla sinistra Rigante adesso ragione il fondi dopo un'azione velocissima è ripiegata benissimo in difesa adesso la squadra di Vinci e dunque la squadra di Fondana di Jacinto De Santis deve ragionare deve manovrare bene questa azione d'attacco c'è Filic che prova il tiro aveva provato a pararla via il grande ma invece c'è la rete del serbo del 32enne serbo dell'HC sui fondi 9 a 5 per i padroni di casa quando siamo ormai giunti al diciannovesimo minuto poi dall'altra parte il palo di Kezzo e il fallo e il fallo c'era stata prima la parata di Maxi Soliani poi si riparte con il fallo da 9 metri a favore del Siracusa trovato Kezzo esce per dar spazio a Murga Maximo Murga il numero 23 che va a coprire il ruolo di terzino destro Mattia Calvo sempre lui il regista di questa squadra Bronzo ancora per Calvo Rossi aveva provato a smarcarsi c'è stato il fallo che comporta i due minuti quindi sospensione di due minuti sospensione temporanea ai danni del numero 17 Jonas Matà dunque fondi in inferiorità numerica nel frattempo si prepara anche ad un altro cambio il Siracusa dientra il croato Kezzo esce Bronzo il numero 10 lui fresco di convocazione nazionale under 18 Murga posizione di centrale per Mattia Calvo poi Bronzo proprio lui 9 a 6 9 a 6 il punteggio Umberto Bronzo bellissimo gol con il sinistro in questo caso per così per evitare l'uomo in meno in fase di attacco mister De Santis toglie in questa occasione di attacco Maxi Soliani toglie il portiere per consentire l'accesso di Stefano De Torre nel frattempo il fondi con Dallaglio ancora per De Torre per Filic ancora Rigante fermato palo dei 9 metri battuto velocemente dagli uomini di Jacinto De Santis ancora Filic per Rigante la palla rimbalza per terra e termine in rete per il 10 a 6 della squadra di casa intanto arriva l'ammunizione per il numero 23 Maximo Murga il secondo ammonito del Siracusa è entrato nel frattempo Pestillo che va a ricoprire il ruolo di alla destra per quanto riguarda l'HC Fondi Murga Chezzo si sposta un eto poi Mattia Calvo prova una serie di finte ancora per Bronzo con il sinistro Bronzo 2 a 7 si conferma davvero davvero un gran talento Umberto Bronzo lui che come ho detto è stato anche convocato nella nazionale Andre 18 Luigi sì indubbiamente sta facendo vedere le sue capacità tecniche l'avevamo detto prima un 3 su 3 adesso da quando ha trovato lo spazio giusto ma bisogna dire pure che nelle ultime due occasioni l'angolo di tiro era abbastanza ampio però è stato veramente bravo soprattutto in quest'ultima in quest'ultima circostanza intanto ancora uomo in meno per l'attacco del Fondi e vediamo che c'è Filic ora che raccoglie poi scarica su Francesco Rigante ma gli arbitri fermano il gioco sono tutti in campo ora i giocatori fondali il tentativo di taglio di Zizzo che però è finito a terra il tiro di Filic la prodezza di Grande che con il piede aveva parato e questa volta è proprio Bronzo Umberto Bronzo che esce dal campo per due minuti gli arbitri hanno visto evidentemente una spinta una trattenuta da parte sua nei confronti di Zizzo mentre stava tagliando per andare nel ruolo di doppio pivot sono tutti in campo i giocatori fondali tutti i giocatori di movimento in campo con la fine del periodo di esclusione di Jonas Matà vediamo che Jonas Matà però è ancora in panchina con De Torre nel ruolo di terzino destro e c'è anche Dallaio a riposarsi in campo c'è Pestillo per lui un tentativo di fricante per Conte Conte che riesce a raggiungere il pallone nonostante fosse molto basso spazio di tiro ora per Luciano Zizzo che vede il portiere avanzare e lo punisce con un pallonetto dolcissimo che termina la sua corsa in rete prima marcatura dell'incontro anche per Luciano Zizzo 11 a 7 tornano a 4 le lunghezze di vantaggio per la squadra di casa intanto vediamo che in questa circostanza c'è una marcatura individuale ordinata da mister Jacinto De Santis ed è Pestillo sul croato Chezzo vediamo come lo liberano ora con un scambio con Mattia Calvo poi Murga che cede ancora a Chezzo vedete Pestillo che tenta di appendersi letteralmente poi il pallone che giunge a Oneto il gol non è regolare perché nel frattempo Oneto aveva commesso infrazione di linea ma c'è stato su di lui il fallo che costa alla formazione fondana il tiro di rigore al cui tentativo di trasformazione andrà il croato Chezzo e per tentativo invece di parata Jacinto De Santis mette in campo Antonino Scavone al posto di Maxi Soliani vediamo portiere siciliano per il secondo anno qui a fondi vediamo se saprà in qualche modo se sortirà effetto la mossa del tecnico fondano De Santis una prima finta di Chezzo e la rete sull'angolino aveva anche intuito Scavone sembrato quasi arrivarci con le sue lunghe leve nulla di fatto comunque e andiamo a segnare la quarta marcatura personale di Nicola Cheggio rigante intanto che si incrocia con Filic Filic per De Torre De Torre ferma un po' il gioco non trovando spazi molto mobile ora la difesa avversaria sfugge il pallone a Zizzo peccato perché era l'occasione per l'uomo in più fondano e c'è ora il time out chiesto dal tecnico siciliano Beppe Vinci noi ne approfittiamo per dire che in questo momento le due difese sono abbastanza simili tranne la marcatura individuale nell'ultima azione di Pestillo portata su Ceggio sono due difese 2-6-0 molto attente molto mobili che stanno cercando di porre in qualche modo rimedio agli attacchi avversari punteggio è di 11-8 dopo 22 minuti e 48 secondi e andiamo anche a verificare cosa le notizie che arrivano dagli altri campi dove il Valentino Ferrara al termine di una rimonta al 28esimo minuto a due dalla fine è riuscito ad impattare con il Noci che nelle ultime circostanze stava avanti stanno sul 32-32 e vediamo invece sugli altri campi cosa sta avvenendo se l'ampio divario che separa il Fasano dal Cresi-Reusia-Ragusa proprio sul campo dei siciliani alla fine del primo tempo 21-10 in favore dei vice campioni d'Italia e nonché dei dentori della Coppa Italia nella bellissima finale che abbiamo visto lo scorso aprile qui a Fondi e intanto tutto pronto per riprendere il gioco si ripartirà dal punteggio di 11-8 con il pallone per l'attacco della formazione ospite riprendiamo dal fallo commesso da Pestillo e quindi Avergrande farà ripartire proprio lui il gioco per il Siracusa Murga molto bassa la difesa del Fondi Kezzo Murga Rosso Calvo Calvo prova a smarcarsi Calvo ha segnato ma era stato fischiato prima un fallo adesso esce si rientra dalla sospensione di due minuti Umberto Bronzo quindi ristabilita la parità numerica in campo Murga Kezzo con il sinistro Maxi Sogliani si oppone con una mano e riparte adesso il Fondi Rigante bellissimo il filtrante per Dallaglio che però non si intende con il compagno e quindi riparte il Siracusa Mattia Calvo a cercare Vinci sulla sinistra fermata benissimo questa azione d'attacco da parte della difesa del Fondi Maxi Sogliani adesso farà riprendere il gioco 24 sul cronometro 11 a 9 per il Fondi riprende nel frattempo il gioco con Rigante Conte il capitano dettore ancora Rigante Zizzo per Milos Filic Francesco Rigante molto alto Murga su Filic Rigante si cambia di posizione con Dallaglio per Filic ancora Rigante che prova il tiro e prova il gol del 12 a 9 quando siamo ormai al 25esimo minuto quasi 12 a 9 per l'HC Fondi bellissima partita buonissima prestazione della squadra di Jacinto De Santis dall'altra parte intanto Zuniga approvato da per terra il tiro arriva la sospensione di 2 minuti vediamo un attimino per chi la seconda la seconda per Jonas Matà a rischio terza l'alto a tesino Fondano 12 a 8 nel frattempo correggiamo il punteggio quarto tiro da 7 metri per il Siracusa sulla battuta Kezzo che batte Soliani e quindi adesso sì che siamo sul 12 a 9 sempre a favore del Fondi nel frattempo entra Pestillo rinuncia il portiere anche in questo caso in inferiorità numerica mister De Santis e quindi Rigante Dettoria ancora poi Rigante Milos Filic difende bene adesso il Siracusa posizione centrale Pestillo De Torre per Filic Rigante una serie di finte Rigante provano ad andare al tiro viene fermato Rigante ha trovato anche la rete vediamo cosa dice l'arbitro era stata una buona azione questa di Rigante Luigi si era smarcato bene aveva trovato anche il gol però adesso il Fondi riparte con un follow dei 9 metri battuto molto velocemente De Torre per Milos Filic Zizzo che questa sera sta tagliando molto centralmente poi addirittura triplicata la marcatura su Pestillo una trattenuta due minuti la seconda sospensione per Umberto Bronzo come Matà e quindi Siracusa in inferiorità numerica poteva starci anche un tiro dei 7 metri l'arbitro però ha optato per una punizione dai 9 e quindi il Fondi riparte con Capitan De Torre Francesco Rigante Filic per Zizzo Murg su di lui lo bracca poi ancora Filic per Rigante sotto mano Rigante una serie di falli riparte però il Siracusa l'arbitro non era dello stesso avviso con Oneto fermato da Maxi Sogliani una sala cinesca di Maxi Sogliani dall'altra parte poi Zizzo il fallo di Murga si scalda il pubblico del palazzetto dello sport ottima prestazione da parte dei fondani adesso il time out chiamato dal Fondi bellissima partita bellissimi ultimi cinque minuti da parte del Fondi Luigi un'ottima prestazione dei giocatori di Jacinto De Santis questa sera fino ad ora certo indubbiamente stiamo assistendo a una bella partita sin dall'inizio in realtà negli ultimi minuti probabilmente ecco forse sono riusciti a dare quel pizzico quel quid in più che ha consentito loro di mantenere questo vantaggio di 12 a 9 intanto emozioni a non finire a Benevento sul campo del Valentino Ferrara dove il Noce è riuscito nell'ultimo minuto di gioco a recuperare lo svantaggio e a chiudere 34 a 33 in trasferta quindi ancora una bellissima prestazione del Noce non è facile vincere in casa del Valentino Ferrara contro anche un'ottima squadra che è quella beneventana e al termine di una partita che immaginiamo diciamo non adatta ai deboli di cuore è riuscito nell'ultimo minuto di gioco a sovvertire quando ormai Zaventino Ferrara al culmine di una bella rimonta si era portata avanti intanto il primo parziale sul campo del Conversano dice Conversano che è da 1 a 0 e qui è tutto pronto per riprendere il gioco a poco meno di 4 minuti al termine del primo tempo 3 minuti e 43 secondi per la precisione l'attacco la palla per l'attacco della formazione fondana che ha la possibilità di aumentare il proprio vantaggio siamo sul 12 a 9 vediamo se riuscirà a sfruttare al meglio quest'occasione la formazione di mister De Santis che rinuncia ancora al portiere per addirittura andare a attaccare Colomo in più in questo caso De Torre per Rigante Rigante fa partire Filic Filic si avvicina alla difesa avversaria si alza va alla conclusione schiacciata a terra non riesce a sorprendere però grande perché riesce il portiere l'estremo difensore siciliano a respingere ora c'è il rientro in campo anche dell'ultimo giocatore di movimento quindi per qualche secondo la formazione fondana potrà difendere con l'uomo in più rispetto al tentativo d'attacco della formazione avversaria è un po' indeciso sul da farsi Mattia Calvo c'era forse un'infrazione di passi commessa dal centrale siciliano poi tentano ancora il gioco a due tra Mattia Calvo e Oneto Zunica che cade sul fallo della difesa fondana c'è sembrato De Torre in questa circostanza commettere fallo vediamo che De Santi si intanto chiama a Zizzo per dargli qualche consiglio sulla fase difensiva si spiega con il suo giocatore dall'altra parte vediamo Zunica che è caduto a terra c'è sembrato vittima forse anche di una distorsione probabile distorsione alla caviglia speriamo che non ci sia nulla di grave per il pivot italo-cileno di grandissima esperienza parlano i suoi trofei che ha nel suo palmarès si può riprendere pronto a riprendere anche il pivot della formazione siciliana stato anche asciugato il parquet quindi tutto pronto per riprendere 27 minuti e 6 secondi sono stati giocati in questa prima frazione di gioco ancora 12 a 9 per la formazione di casa ancora con l'uomo in meno l'attacco della formazione siciliana mentre dall'altra parte è liberissimo ora Murga ma gli arbitri regredano probabilmente infrazione di passi ci è sembrato eravamo intenti a seguire l'uomo libero dall'altra parte e la necessità di chiusura appunto da parte della difesa fondana mentre Filic ora si ferma poi scarica su Rigante Rigante ancora per De Torre De Torre è un passaggio fuori misura questa volta per Luca Conte quindi nulla di fatto per l'attacco fondano si prepara il rientro in campo anche di Umberto Bronzo che rientra appunto due esclusioni temporanee anche per lui lo rimette comunque in campo Beppe Vinci molto importante per lui questo giovane questa giovane alla destra e c'è ora nuovamente la marcatura pressoché individuale da parte di Pestillo su Croato Caggio infatti continua a seguirlo anche ora sui 6 metri ora lo lascia mentre va in doppio pivot due potentici giganti nel cuore della difesa fondana per l'attacco siracusano Bronzo ora che taglia per Mattia Calvo non va a buon fine il passaggio al pivot Soliani che lancia ancora una volta Zizzo precisissimo raccoglie il pallone ma poi subisce il fallo di Murga molto bravo nella chiusura seppur fallosa quindi si ripartirà ancora una volta dai 9 metri un minuto e mezzo alla fine di questo primo tempo con Filic per Zizzo Zizzo una finta e poi scarica ancora per il proprio compagno Stefano De Torre per Rigante Rigante ancora per Filic poi parte lo schema con Pestillo che abbandona i 6 metri avversari poi ci si rituffa è il bellissimo doppio pivot portato da De Torre che raccoglie l'assist al bacio di Francesco Rigante per la rete numero 13 importantissima perché mentre va ad iniziare l'ultimo minuto di questa prima frazione di gioco sono 4 le reti di vantaggio per la squadra di casa Murga ancora tenta lo scavalcamento su De Torre poi scarica su Vinci ancora un errore stesso errore di prima per Vinci e quindi c'è l'occasione per portare anche l'ultimo attacco della prima frazione di gioco in campo in fase difensiva c'è anche l'altro di Calvo Andrea Calvo con il numero 11 che entra come secondo uomo di questa 6-0 portata dal tecnico Beppe Vinci un po' più alto però su quel versante dell'attacco fondano la squadra siciliana anche all'inizio era stato così Rigante ora per De Torre De Torre una finta poi c'è l'infrazione di passi commessa dal numero 22 capitano fondano che lascia il pallone a terra può ripartire la formazione siracusana 12 secondi alla fine della prima frazione di gioco ottima la chiusura seppur fallosa di Zizzo che mentre mancano 4 secondi bravissimo ancora Zizzo a chiudere al tentativo e c'è il primo tempo la sirena che dice che il primo tempo è finito ma c'è da battere un tiro franco e quando all'abbattuto c'è Marco Zuneto Oniga non c'è nulla di sicuro perché proprio con una rete su tiro franco alla fine della partita Zuniga no si tratta di Chezzo scusate è Chezzo che va al tentativo non era Zuniga questa volta era Chezzo che va al tentativo dai 9 metri con tiro franco non va a buon fine anche perché il muro della difesa Fontana riesce a deviare in alto il pallone e quindi si chiude un bel primo tempo con il punteggio di 13 a 9 in favore della formazione Fontana risentirci a tra poco ci sarà sicuramente da divertirsi e da palpitare anche nella seconda frazione di gioco